Uè! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Dai! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi come sempre tutte le news delle ultime 24 ore di Fortnite le trovate ogni giorno belle fresche frasche come le mozzarella! Nel video di oggi ragazzi ci sono un sacco di argomenti super interessanti tra cui ieri mi sono dimenticato di farvi sentire e di parlarvi del pesce mistico, il mythic goldfish oramai che si sta veramente inserendo prepotentemente nelle varie discussioni sui forum in quanto è veramente una caccia al pesce! Esiste! È nei file di gioco! Nessuno lo ha ancora trovato! Avrei detto delle cose sbagliate ieri perché oggi sono apparse nuove informazioni ed è una cosa devastante! Parleremo anche però ragazzi dello school trooper! Molti me lo chiedete soprattutto durante le mie live torna non torna, arriva la gu quando escono vi do un paio di informazioni e vi posso quasi garantire che ci sarà anche per quest'anno! E ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di Fortnite Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono in live su Twitch dalle 8 alle 18 e soprattutto tutti i ragazzi che utilizzano il codice creator Xyuderone Grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video Prima però ve la devo fare io ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto la domandina domanda veramente spiccia e semplice pass battaglia ti sei shoppato base oppure con 25 livelli oppure non lo hai proprio preso io sinceramente consiglio a tutti di prendere il pass battaglia ma quello classico in modo da godersi livello per livello tutte le ricompense anche se c'è da dire che in questa season dobbiamo darci dentro di prepotenza perché non è proprio così facile arrivare a livello 100 mi raccomando i vostri commenti proprio qua sotto ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere ecco ne parliamo subito così non ce lo dimentichiamo tutte le informazioni relative al pesce mitico innanzitutto si pesca ovviamente e dovrebbe far parte del set di pesci c'è il pesce piccolino 25 di salute il pesce quello non comune quello ciccione 50 di salute e poi c'è il pesce quello viola che ci danno ci da 75 tra salute e scudi che cosa fa il pesce mistico ragazzi il pesce mistico è devastante voglio farvi vedere innanzitutto no di qua no di qua mi dimentico che sono di qua e non di là nei file di gioco ragazzi è presente la come si dice la voce Athena Bucket Nice Bucket dovrebbe essere proprio il termine utilizzato nei file di gioco per il pesce mistico e sopra Utility Item Damage quindi sappiamo che sarà un oggetto tra virgolette che fa danno e la domanda giustamente è Xiu Da quanto danno fa? prima di dirtelo ti faccio sentire un attimo i suoni trovati del pesciazzo se partissero quindi si sente molto ragazzi il suono metallico signori questo pesce fa 200 di danno a qualsiasi distanza media sotto sotto medio range low range e long range quindi qualsiasi distanza utilizzata per colpire un nostro avversario con il pesce farà 200 di danno quindi one hit assurdo assolutamente non vedo l'ora che qualcuno prima o poi lo trovi perché voglio vedere tutti oramai vogliamo vedere che cavolo farà questo pesciazzo ma andiamo avanti con il prossimo argomento e parliamo dello Skull Trooper un'altra delle cose più come dire hot di questi giorni la Ghoul Trooper innanzitutto io personalmente non credo che tornerà nello shop non è arrivata l'anno scorso è molto difficile abbastanza impossibile che venga riproposta quest'anno ma lo Skull Trooper invece dovrebbe tornare perché dovrebbe tornare perché è successa la stessa cosa del trailer della season 6 se andiamo a vedere ragazzi un pezzettino di trailer come in questo momento vedete che c'è nuovamente lo Skull Trooper che tra l'altro sta utilizzando un'emote uscita l'anno scorso per Halloween avete presente in season 4 credo è uscita l'emote dei popcorn il tizio che si mangi i popcorn è bello contento per Halloween season 6 uscì la stessa identica emote però con la zucca e le caramelle queste proprio emote che viene riproposta quindi è molto molto probabile che anche per questa season finalmente rivedremo il ritorno dello Skull Trooper e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi domanda che mi fate spesso quanti livelli ci sono in questa season beh ragazzi la risposta arriva proprio qua da un leakers i livelli massimi raggiungibili il livello massimo raggiungibile in questa season è 999 è ovviamente fuori dal mondo non è possibile raggiungere in questa season il livello 999 perché dico che non è possibile neanche nerdandoci prepotentemente beh ragazzi perché è quasi se non impossibile raggiungere anche il livello 100 ci sono dei problemi abbastanza gravi che non quadrano con la matematica alcune informazioni le vediamo proprio da queste immagini come vedete ragazzi da livello 1 a livello 100 servono per ogni livello 80.000 punti esperienza sono veramente tantissimi il che vuol dire che per fare 100 livelli del 100 livelli bisogna fare 7.640.000 punti esperienza traduciamolo in numeri un pochettino più piccoli ci dico innanzitutto che oltre al livello 100 ci sono 130.000 punti esperienza da fare per livellare ma la cosa che a me preme farvi capire l'avevo anche pubblicato ieri sera sulla mia pagina instagram trovate con xyuder cioè in due soldi per arrivare al livello 100 di questa season dovremmo fare 1088 vittorie è un po' fuori dal comune perché avevano calcolato che tutte le sfide delle settimane danno un totale di 1.260.000 punti esperienza e giocando con tutte le non mi ricordo di che cosa si parlasse credo i punti esperienza extra roba del genere sono un altro milione di punti esperienza il che vuol dire che c'è un buco di 5 milioni di punti esperienza si dice giocare praticamente vogliono che si sta tutto il giorno a giocare in poche parole e nonostante voi giocaste 30 40 partite al giorno che è fuori anche quello dal comune dovreste vincerle quasi tutte quindi giustamente la community si sta un pochettino alterando perché non è quasi possibile raggiungere il livello 100 io parlo senza scioppare ovviamente i livelli del pass battaglia è una cosa veramente strana che cerchiamo un po' di capire sicuramente io sono certo che Epic Games fixerà questo bug matematico e probabilmente darà la possibilità di guadagnare un sacco di punti esperienza per bilanciare un pochettino le cose arriviamo però ragazzi all'ultimo argomento di oggi volevo dirlo se ancora non lo sapete da ieri sera salva al mondo è scontato del 50% il che vuol dire che lo pagate 19.99 20 euro una roba del genere io l'avevo preso 430 giorni fa a proprio scontato 19.99 consiglio se ne avete la disponibilità di prendere salva al mondo anche se non ci giocate perché se non lo sapete voi potete loggare ogni giorno su save the world riscattare una ricompensa gratuitamente e ogni tot di giorni neanche troppi tipo 8-10 giorni vi danno 100 vbucks o 150 a volte 300 e poi ci sono due o tre volte l'anno che ve ne danno 800 quindi vale comunque la pena di prenderselo anche solamente per i vbucks beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 su twitch ciao 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 Grazie a tutti.